L'istituto comprensivo Lucca 6 cambia nome e viene intitolato A Fratella Arturo Paoli. Il complesso scolastico, che comprende nove scuole dell'area di Lucca Est, tra materne, primarie e medie, ha deciso in questo modo di ricordare col proprio nome il religioso e missionario lucchese, alla cui attività si ispira anche l'opera di istruzione e formazione. Con la sua vita ha testimoniato i valori della solidarietà, dell'amicizia, dell'attenzione agli ultimi, valori a cui la scuola stessa si ispira e quindi è importante che sia una scuola e non una piazza, una strada, a portare questo nome di cui rimane traccia nella storia di Lucca. Le cerimonie di intitolazione hanno preso il via alla Scuola Media Chilini di San Vito, dove è stata scoperta la targa di intitolazione alla presenza di una delegazione di docenti e alunni delle scuole che compongono l'istituto. Tutta la comunità scolastica si è unita per raccontare la testimonianza di fratello Arturo e il significato della scelta di intitolare l'istituto alla sua figura e al suo esempio. Ognuno di noi ha bisogno dell'altro e quindi nella scuola a livello didattico, come strategia di metodologia didattica, noi coltiviamo il fare insieme, il valore del gruppo, il valore del fare insieme, perché nessuno di noi si salva da solo, abbiamo bisogno dell'altro. E quindi nella scuola gli insegnanti hanno cura dei bambini, hanno cura, quella cura che ripara, la cura che conserva, la cura che fa fiorire. E quindi questi sono i valori forti che Arturo ha lasciato e che noi pensiamo di continuare a portare avanti. Tra le iniziative per celebrare l'intitolazione, anche una mostra allestita nel chiostro di San Francesco, dove sono esposti i lavori preparati dagli alunni delle scuole sull'opera di fratello Arturo Paoli.